Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Ieri, lunedì 4 settembre, è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio 5 con Mirta Merlino come conduttrice. L'approccio adottato nella conduzione ha suscitato opinioni contrastanti tra il pubblico. Per molti anni, il programma è stato condotto da Barbara D'Orso, e il cambiamento non è stato accolto positivamente da coloro che erano affezionati alla sua conduzione. In riferimento a Barbara, Merlino ha voluto esprimere il suo ringraziamento. Voglio ringraziare Barbara D'Orso che ha condotto questo programma per 15 anni. Ciao Barbara, grazie. Tuttavia, le parole di Mirta non hanno convinto completamente il pubblico, che l'ha accusata di essere falsa e di aver letto il copione in modo poco convincente. Le critiche sono piovute sul web, come riportato da fonti di gossip e programmi televisivi. La situazione è stata ulteriormente complicata dall'atteggiamento di Mirta, considerato troppo emotivo e eccessivamente melodrammatico secondo quanto si legge in rete. In più, il regista della prima puntata è stato licenziato. Secondo alcuni giornali, il regista che arrivava dall'Aria che tira, programma condotto dalla Merlino sulla sette, sarebbe stato sostituito dopo una sola puntata. Il suo operato non sarebbe piaciuto ai vertici Mediaset. Molti telespettatori desiderano immediatamente il ritorno di Barbara D'Orso alla conduzione del programma e hanno espresso il loro desiderio di vederla di nuovo sullo schermo. Qual è la vostra opinione su questa situazione? Scrivi un commento.